Come ha cambiato l'agricoltura nel tempo? L'agricoltura si è evoluta dall'inizio del secolo scorso, abbiamo le lavorazioni con gli animali e siamo passati, andando avanti col tempo, con la meccanizzazione. Questo ha portato a molto sviluppo e molto meno lavoro manuale da parte degli agricoltori. Quali prodotti tipici agricoli si coltivano? Nella nostra zona si coltivano molti prodotti, abbiamo moltissimi frutteti, frutteti di mele in modo particolare, nel pienolese ci sono frutteti di nocciole, di frutteti di pere e di pesche anche. Diversamente si coltivano anche molti ortaggi e quindi diciamo che in generale sono tutti i prodotti classici della nostra zona. Come vengono coltivati? Vengono coltivati generalmente in due modi, si sta sviluppando in questo ultimo tempo la cultura del biologico, diversamente con il metodo tradizionale vengono usati tutti i prodotti antiparassitari per poter coltivarli. Grazie. Grazie.